Ciao a tutti ragazzi io sono Toder e la mia figlia Eve e oggi andiamo a reactare dei video divertenti con dell'acqua in bocca che ne prendiamo dentro questi due bicchieri e quando ci verrà da ridere sputeremo dentro a questa ciotola praticamente il nostro obiettivo sarà cioè non ridere come avete già capito dal titolo e se ridi più di tre volte perché mi farà ridere e perde l'altro vince vai passo la parola a mia sorella Eve Allora praticamente pure io ho un canale che si chiama gli artisti farlo lui ce n'ha due giusto? Non un canale, Toner, 9218 e questo è un canale solo nostro cioè in senso che è un canale in cui ci siamo noi due quindi questo sarà solo cioè solo in questo canale perché ci siamo solo noi due perché se no se stava sul mio c'era solo io e mio papà quindi comunque mi potete chiamare o Eve o Eve Ah beh diciamo che lei dice che lei è un canale suo e un canale mio abbiamo deciso di creare questo canale insieme per magari stare più a video adesso faccio una breve pausa cioè vi interrompo un attimo il video con un piccolo taglio e poi ci rivediamo dopo ciao ciao ragazzi siamo tornati con dell'acqua adesso starteremo il video e poi ci vedrete credo ridere, piangere o... vai 3, 2, 1, let's go 3, 2, 1, let's go 3, 2, 1, let's go 3, 2, let's go 3, 2, let's go ok, adesso stiamo per trattare un altro video ciao nooo 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 nooo